E' una sfida aperta quella tra gli esclusi della lista Teodoro e il sindaco Alessandrini. Non va giù l'ultimo rimpasto di giunta che li ha visti sostituiti nonostante, come ripetono loro, abbiano portato nelle urna più di 3.000 voti a favore del PD. Considerando il 5% che noi abbiamo portato, quindi 3.500 voti della lista Teodoro, ha pensato bene il sindaco, nella sua genialità, di estrometterci dalla giunta. Per cui non potendo partecipare all'esecutivo dell'amministrazione comunale, noi interverremo, restando sempre nel centro-sinistra, in maniera minuziosa e impeccabile nel correggere, secondo noi, quelle che sono le delibere presentate in Consiglio Comunale dalla maggioranza Alessandrini. Già sono stati annunciati alcuni temi, sono le periferie poi? La cura delle strade, mi riferisco soprattutto ai colli, alla zona alta e poi sul sociale. Voi pensate che il progetto che ha ideato il sottoscritto insieme all'altro collega Pier Nicola Todoro, il progetto Mi Impegno Pescara, dopo essere stato pubblicato soltanto 15 giorni presso l'arbre petorio del comune, c'è stato un grande risultato, anzi purtroppo un preoccupante risultato, cioè quello di 450 adesioni. Se da un lato annunciano un monitoraggio costante verso la governance del primo cittadino, dall'altra fanno sapere che da qualche settimana si sono interrotti bruscamente tutti i contatti, anche quelli di servizio. Noi non vogliamo avere nessun tipo di rapporto con il sindaco. Noi ci confrontiamo con i vertici del partito del PD, mi riferisco al presidente Luciano D'Alfonso, mi riferisco al segretario regionale del partito e a alcuni rappresentanti all'interno del comune, come potrebbe essere il capo di gabinetto Guido Dezzo. Col sindaco noi non abbiamo più nulla a che vedere.